Due vittorie e una sconfitta, ultimo turno del 2013 in Lega Pro con un bilancio più che lusinghiero. Con l'Aquila nelle alte sfere il Teramo campione d'inverno arranca invece il Chieti. In prima l'Aquila di Pagliari ritrova smalto e si conferma grande in trasferta e contro compagini di Blasone. Dopo tre cappò di fila il riscatto arriva sul terreno del Catanzaro col classico risultato frutto della coppia gol di Sosa Infantino. E' da Sosa a sbloccare alla mezz'ora grazie a un calcio di rigore per fallo di mano di Ferraro. Nella ripresa bello il gol di Infantino che supera tre avversari e mette nel sacco. Rosso-Blu che rafforzano la quarta piazza, violano il Ceravolo imbattuto fino a ieri, si riprenderà il 5 gennaio a Prato. Grande Teramo a Piano Daccio nel big match di seconda, c'è il Cosenza dell'ex cappellaccio a difendere il primato e la partita è bellissima, ricca di giocate, ritmo, capovolgimenti di fronte. Sono i diavoli però ad indovinare tutto vincendo per 3-0. I gol in apertura a segno Sassano che replica la mezz'ora della ripresa, personale doppietta per lui. Al primo minuto di recupero Tris di Casolla, il terremo e primo sorpassando il Cosenza, campione d'inverno e con merito. Disco rosso invece per il Chieti e lo Zaccheria di Foggia, Robertiello papereggia in avvio, sarà il gol partita. Le espulsioni di Terrenzio e Gaeta complicano il percorso neroverde. Da gennaio ci sarà da macinare. Grazie.